Sabato incontriamo Olginate, una squadra che sta lì in alto in classifica, una squadra come tante che ne abbiamo incontrate difende parecchio, una buona squadra, sbaglia poco, con dentro di giocatori esperti, quindi cerchiamo di fare una buona gara fuori casa e cercare di ritornare anche alla vittoria fuori casa. Sarà un campo molto difficile, le ragazze si stanno preparando bene e speriamo in una buona partita.